Tu sei stato sceglionato dopo una vittoria. Come Simoni con la Salernitana. Però sono contento perché comunque la squadra gioca, la squadra ha i stessi movimenti e gioca quelli che gli ho insegnato io. La squadra sta giocando come vuole De Cesar. Quindi merito della vittoria anche di De Cesar. Certo, ma più del 90% è merito mio, insieme ai ragazzi. Ecco, qualcosa dell'allenatore adesso è uno che... Vabbè, grazie a Ciro De Cesar. Io prendo le distanze, non è il preferito di riconoscere l'allenatore. Ma non ti perdi niente perché non è nessuno. Va bene così, va bene. Siediamo ora qui, grazie a Ciro De Cesar.